Quest'uomo, nelle vesti del direttore irresponsabile di Chiaro e Tondo TV, vi porta la rassegna stramba. Qualcuno mi ha detto, ma c'è stato un errore di stampa, no? C'è stato un errore di stramba, perché non sarei mai in grado di fare una rassegna stampa. Ve la farò stramba, se vi piace poi ve la rifaccio, e se no, non lo dite agli amici, che rimanga tra noi. Andiamo, chi sono per giudicare i gay? Ha detto Papa Francesco tornando dal Brasile, la svolta del Papa ha detto d'altronde, se uno è gay, perché non può essere credente? E' giusto, poi tra l'altro, che se ne dica della Bibbia, dell'Antico Testamento, l'osso sacro, dove è messo? In quella zona lì. Va bene, andiamo avanti. Silvio Berlusconi è in ansia, perché oggi si sa questo giudizio. Che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che lo assolvono e in questo caso il Cavaliere viene assolto in formula definitiva dalle accuse. Oppure la soluzione corre in via, nel senso che il portiere del Milan mette la palla. Al limite dell'area piccola, come lo assolvono, per la felicità, rinvia il pallone a centrocampo, dove Gagliani lo smisterà. Nel caso che invece la Cassazione confermi la condanna, sono tempi brutti per il Cavaliere, perché pensate, praticamente degli anni che gli hanno dato ne rimanono solo perché gli altri sono caduti in prescrizione. Però essendo anziano, o viene messo ai servizi sociali, tipo a fare lo spazzino, oppure può scegliere se avere gli arresti domiciliari in una delle sue case, per esempio alle Caiman. Io sono convinto che lui va alle Caiman, anche perché per scopare ci ha portato, ma non in terra. Di solito lo fa sul letto. Da qui andiamo a vedere, a pagi 19 mi ero segnato, eccoci qua, cosa c'è? Ah, Pripche, il neonazista a Roma, ha festeggiato cento anni e al suo compleanno ci sono stati tafferugli. Ora la mia domanda è, ma se Pripche era stato tolto di galera per motivi di salute, come cazzo ho fatto arrivare a cento anni? Ci sarà qualcosa che non va, o voglio anch'io i medici di Pripche? Tromba d'aria, nubi fragili, ieri paura al nord, ma paura anche a Rezzo. L'aria è l'unica cosa che è rimasta a trombare. Gioielli spariti a Cannes, il bottino sale a cento tre milioni. Pensate, a Cannes hanno cento tre milioni di bottino di gioielli, a parte che secondo me qualcuno ha denunciato anche più furto di quanto non aveva. Noi l'unico che ha il bottino in zona è il Falcinelli di Palazzo del Pero, che saluto come svuotatore di pozzi neri. Va in tavola il primo hamburger artificiale e questo veramente ci fa, ci sconvolge. Pensate che a Londra ieri il primo hamburger di manzo, nato geneticamente da prodotti derivati dalla scienza, è stato realizzato. Tra l'altro il prezzo è anche contenuto, 250 mila sterline, circa 300 mila Euro. E quindi credo che il mondo abbia risolto. Andiamo al... McDonald's li fanno a meno. Sì, appunto, no? Li fanno a molto meno. Andiamo alla cronaca locale. A Rambo, quello degli autovelox, è stato scoperto che ha sparato da solo una calibro 22. già molti lo chiamano il difensore dei poveri perché, come tutti voi sapete, chi ha ricevuto una multa come può non dire bravo ha fatto bene a Sparaglia, anche se è un grave reato e le pallotto, le vaganti possono colpire chiunque. Andiamo avanti perché si parla appunto della tromba d'aria, 4 mila fulmini tra Siena e Arezzo, pensate un po' voi, e bracciali a meacci, dimettiti subito, ferri corti nel PD, ma il segretario resta. Questo perché... Ma non lancia il resto, non va al lavoro in morte, ho una pizzeria in via Guido Monaco, Bizzera Domenico di Sotto, Terza Corsia, Sociali, Scattano, Terese. E poi Cortona, mi piace che a Cortona hanno fatto un sacco di cose belle, tra cui l'incontro ieri tra Baricco, mi sembra, e Giovanotti, che l'avevo letto in cronaca, ecco qua, a pagina 18. Questo ha significato che il comune di Cortona è veramente in prima fila tra i comuni che sanno organizzare gli eventi, bisognerebbe mandare i nostri cuccioli, i nostri politici a imparare da loro, ma d'altronde è il paese mio che stai sulla collina. L'unica cosa positiva di Arezzo è il Kovacevic che racconta Gnicche, Gnicche era il brigante simbolo di Arezzo, la cui torre nella quale ogni tanto si rifugiava è l'unica cosa rimasta di ricordo in piedi, e c'è questo bravo attore di teatro che ha una sorella che si chiama Amina, che anche se non ha bevuto, se la prendi, prendi la mina, capito? Cioè te esci con la sorella del Kovacevic, anche se non bevi, prendi la mina. Era una battuta per finire il compito. No, era una battuta perché ti piacerebbe uscirci, ma è una creatura in confronto a te. Ma è una creatura la mina Kovacevic? Sì. Ma è vecchia, rintronita. Sì, ma te di più. Io più di lei. Hai finito? Madonna, rirritato. Sei a nero. Tu strozza, tu strozza.